Villa La Clausura è una location che custodisce incantevoli spazi interni ed esterni e che offre una cucina ricca e prelibata ed ogni altro servizio utile alla realizzazione di un perfetto ed indimenticabile ricevimento nuziale. Il nome della villa evoca la pace ed il relax racchiusi tra queste mura e nel verdissimo parco che la circonda. Ogni ambiente della struttura e del giardino si presterà per incorniciare con incanto i vari splendidi momenti del ricevimento nuziale. Le sale custodiscono pregiati arredi d'epoca in un'alternanza di mobili ed oggetti di decoro che rendono alla vista un'atmosfera suggestiva ed elegante mentre il parco racchiude angoli poetici di rara bellezza che incorniceranno con incanto i vari momenti del ricevimento che trascorrerete all'aperto. L'ampio ventaglio di servizi offerti da Villa La Clausura riesce a ricoprire ogni importante elemento del ricevimento nuziale con la massima professionalità e il grande entusiasmo di una wedding planner che vi aiuterà nell'organizzazione. Qualora lo vogliate potrete richiedere il servizio di wedding planner gestito da un'instancabile organizzatrice di matrimoni che vi consiglierà ed aiuterà in ogni fase come nella scelta degli allestimenti e delle decorazioni e nella contrattazione dei migliori fornitori della zona. Il vostro menù sarà pensato alla ricerca del gusto e della semplicità con l'utilizzo di prodotti biologici e di altissima qualità. Il rispetto verso l'alta gastronomia tradizionale che riesce a variare tra le tante regioni d'Italia garantisce il successo di questa impeccabile cucina.